Harry Potter e Satana, Leone, amore mio, cosa c'è esso? Dobbiamo andare, prima che scade il tempo. Ma lo vuote, è ancora lì. Ma il nostro figlio, Luciferima... Harry, riesci a sentirmi? È fatta. È fatta. Non dovevo andare, non ti cosa. Anch'io volevo andare. Ma... Ero convinta che Silente ti avesse lasciato là la spada. Ma non l'ho fatto. Ma non l'ho fatto. Avevi ragione. Harry, tu sei chi, sapete che cosa si è andato? E lui ha ci sapatita. E ha messo il serpente dentro lei. E ha fatto il popolo solo per noi. Harry, no. Adesso tu ti devi riposare. Ma pensi che è peor posi? Tu sei chi è stato il nostro ammossa. Il mio figlio. Il mio figlio. Non ci faremo. E non abbiamo indizi. Il che vuol dire che... Il che dobbiamo prendere non ci faremo. Lo so, lo so, ma... Harry, ho letto un centinaio di volte il libro che mi ha lasciato Silente. L'ho controllato minuziosamente. So che deve esserci un indizio, ma... Guarderò ancora. Tu controlla che qui siamo al sicuro. Io guarderò ancora. Hermione. 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 Sei mio figlio. L'uciperema. Dobbiamo aiutarlo. Dobbiamo sconfiggerelo voi. Dobbiamo per la guerra. Alcuni amanti sono nati po' bene. Dovete essere nati. Ah, benvenuti. Siamo benvenuti a Harry Potter. Quanto è stata la religione del male, parte 1. Felicitare il nostro figlio, il suo figlio di l'uciperema, che sono io. Perché è una sore vera che era accaduto. C'è un ragno. I ragni. Dannati i ragni. Cercheranno di confinare. Spendimentare. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.